Sono Gian e oggi vi porto altro episodio give me badge, give me shoes, la marito odom raga Adesso ci sposteremo sul monitor per vedere un pochettino la carta Faremo come al solito una scarpa per Monty, una scarpa per Steph Cosa meno state a posto che più o meno sono i coach che più o meno tutti hanno Molto interessante, potrebbe essere una budget anche comunque ho visto il prezzo È tra i 20-30k, qualcosa di meno Carta che mi ha sconvolto molto in freestyle, nel senso ho visto la lunghezza delle braccia Non è i 2-10 che dice, capito? Quindi vabbè, 44 badge of fame, zone calde come vedete le ha Gli mancano queste qua, non ho capito il perché, non lo so Rilascio Paul George, molto buono, non quick, non quick, normal Non palleggia neanche malissimo raga, c'ha il dribble style di Paul George Vediamo un attimino i stats velocemente, 85 da 3 punti, 90 di Dreaming Dunk In difesa una buona carta, quindi fondamentale portarli il maggior numero di punti a 90 Allora, 5 slot disponibili raga Quindi, allora, questo Odom come lo facciamo usare? Cioè, dove lo mettiamo? Fatto raga Cioè, io lo vedrei più da 4 Devo essere sincero, perché comunque non palleggia tantissimo Potrei dar più palla al 3 Anche se i miei giocatori che palleggiano di più sono comunque il playmaker, la guardia Quindi io probabilmente lo metterei da 4 Allora, che badge bisogna mettere raga? Give me badge, la mar Odom Number 1, blinders Number 2, ring protector Number 3, pickpocket Number 4, menage Number 5, limite spot up Potrebbe essere, dovete sceglierlo voi raga Vedete un po' voi Oppure anche chef, ci potrebbe stare anche se è doppio quadrato in fadeaway non è per niente male Per me queste qua sono le miglior badge da mettere a lui Poi, give me shoes Give me shoes con Steph Curry raga Tiro da 3 punti, sicuro E speed with ball sicuramente Poi li metterei speed e accelerazione si potrebbe mettere raga Questi due fondamentali, un bel più 3 che passa 91, ottimo E poi li metterei difesa interna sicuramente E si potrebbe mettere anche perimetro, difesa perimetro Quindi capito raga, io metterei tiro da 3 punti, speed with ball sicuro Poi metterei speed e accelerazione, scegliete voi Comunque per me sono molto buoni questi due qua E poi giocherei su questa difesa Difesa interna e difesa perimetro Che si possono comunque passare dai 90 Anche lateral quickness, però direi più il resto Questa per quanto riguarda Steph Curry Sicuramente non cambierà tanto anche per Monty Williams Quindi give me shoes per Monty Williams Direi che 3 punti sicuro raga Speed with ball sicuro Ball landing lascierei stare Qua potrei mettere accelerazione E vedi che qua mi avanza Qua mi avanza, è bello di avere Monty Williams Che ti dà e ti toglie da una parte Quindi qua speed, lasciamo così Mettete accelerazione, interna e perimetro Capito? Quindi questa qua è la scarpettina per quanto riguarda Monty Peace Peace